Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, terzo videocorso dedicato a CAUT, così andiamo un pochino a completare la playlist, cioè l'apposita rubrica dedicata a CAUT che trovate qui sul mio canale. Abbiamo visto come creare da zero un quiz, poi nel secondo videocorso abbiamo visto come proporlo e come partecipano i ragazzi o qualunque destinatario insomma poi del nostro CAUT, vediamo qui come ritrovare, consultare i report, cioè come archiviare i risultati del nostro CAUT. Allora come vedete qui siamo nella dashboard, cioè nella bacheca di CAUT, il sito di riferimento per i creatori, lo ricordo, è create.caut.it, come ricordo che i destinatari, i giocatori invece, dovranno o andare sul sito semplice di CAUT, non c'è il CAUT all'interno, o ancor meglio scaricare la app dedicata per Android o per sistema operativo iOS, dunque per Apple. Noi, docenti e creatori, entriamo qui, quindi in CAUT come creatori appunto, e ci portiamo su Reports con un clic in alto. Poi scegliamo il quiz di cui vogliamo consultare il report, quindi qui abbiamo uno storico da poter sempre consultare. Insomma, scorriamo un pochettino, ora scorro con voi, io vado a prendere per esempio, guardate un po', faccio un open quiz. Questo è un quiz che ho proposto, tra parentesi, come esempio, proprio ad un mio corso di formazione ai colleghi sulla didattica digitale integrata. Guardate, io vedo già, senza aprirlo, che questo quiz è stato effettuato l'ultima volta, il 15 settembre 2020, che ha coinvolto 47 persone, ricordiamoci che fino a 50 destinatari possiamo comprendere in un CAUT. A questo punto clicco e qui nel summary, quindi nel sommario, ho un riepilogo, cioè vedo ad esempio se ci sono state delle domande con difficoltà, se e chi ha avuto bisogno di aiuto, se ci sono partecipanti che per qualsiasi motivo non sono riusciti a terminare, quanto tempo ha richiesto la compilazione, cioè lo svolgimento totale del nostro CAUT, da quante domande era composto e da quanti giocatori. Attenzione, lo vedremo tra un istante, per avere i risultati sempre separati, io devo duplicare un CAUT per ogni classe con cui lo farò. Qui invece sto consultando i risultati, allora che cosa faccio? Dove c'è scritto report options in alto, pulsante con i tre pallini, clic su download report, clicca ancora su download, pulsante verde o save to google drive. Quindi che cosa ottengo? Ottengo sempre un file in formato foglio elettronico che posso archiviare nel mio drive o sul mio dispositivo. adesso in realtà io l'ho già salvato, quindi che cosa faccio? Simuliamo tranquillamente di aver cliccato il pulsante verde dei download, io vado ad aprire direttamente dal mio dispositivo e dalla mia cartella dei download, eccolo qui, il nostro foglio elettronico e guardiamo come composto. In questo caso si è aperto con Microsoft Excel, che io posseggo con regolare licenza d'uso, ma francamente possiamo tranquillamente aprirlo anche con la ottima suite, quindi l'insieme di programmi gratuito e di alta qualità, LibreOffice, che al suo interno ha il programma che si chiama calc, alternativa open source a Excel. Ecco, vedete? A questo punto io che cosa ho? Facciamo un open quiz, quando è stato riprodotto, chi lo ha lanciato, in questo caso il creatore, quanti lo hanno giocato, la percentuale delle risposte corrette e la percentuale delle risposte non corrette. Tenete conto che questa era una simulazione, se no poi pensate, oddio, è stata una tragedia. Veramente un report accurato perché io poi, spostando il mio simpatico faccione, ho questi tab, queste linguette in basso e cliccando ad esempio su final scores, io vedo esattamente chi è arrivato per primo o quale posizione ha ottenuto, con quante risposte corrette, con quante sbagliate. Non solo, ma se io vado su count summary, io vedo anche le domande numerate Q1, question 1, poi 2, eccetera, eccetera, e chi ha risposto che cosa alle differenti domande. Colore verde, tutto ok, colore rosso, non ok. Quindi posso fare veramente un bel monitoraggio. Addirittura posso consultare le singole domande, osservando la media e le statistiche della singola domanda. Ecco un altro aspetto di nostro interesse. Inoltre, inoltre, questo foglio elettronico, ricordo che rimane poi archiviato sul nostro dispositivo appunto o su Google Drive, quindi lo possiamo tranquillamente tenere agli atti. Ricordo anche che naturalmente il punteggio di CAUT si ispira alla gamification ed è dunque americano per la valutazione, tema sicuramente molto interessante, sta a noi costruire una rubrica. Rifaccio l'esempio di cui ho parlato anche nei precedenti videocorsi. Io stabilisco delle fasce per cui sapete che in CAUT la risposta che totalizza punteggio maggiore è quella corretta data nel minor tempo, quindi io posso decidere che da tot punti a tot punti voto 7, da tot punti a tot punti voto 8, da tot punti a tot punti voto 9 e così via, provando a costruire sulla base del punteggio di CAUT una rubrica di valutazione specifica sull'elaborato digitale, sul prodotto digitale. Ecco la sfida. Quindi la sfida non è solo usare lo strumento digitale ma è anche saperlo scegliere e saperlo valutare. Inoltre ricordiamoci che in questa maniera ci si diverte apprendendo. Non è solo un contenitore appunto ma abbiamo il contenitore digitale con il contenuto didattico al suo interno. Bene, vi lascio poi alla prova pratica su strada, perdonatemi di CAUT se ancora non avete avuto modo magari di effettuarla e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.